Cioè non ce la possiamo prendere col commerciato su questo, è d'accordo con di me? No, no, ma guarda, è come dire, è come dire, sull'evasione fiscale, ma chi può dire in questo paese che favoreva l'evasione? C'è solo un criminale lo può dire. Chi ha fatto condo liberale? No, 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 però fatemi dire, perché se no poi io vado sulla voce degli altri e in questo studio non si capisce più nulla. No, 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 uno per volta c'è il tempo, uno per volta. Quindi parlo io, poi accetto ovviamente con rispetto quando parlano gli altri. Non c'è bisogno di andare nel sommerso. Tu alcune cose le puoi serenamente fare adesso. Quanto hanno dichiarato, quanti profitti hanno fatto nel 2018, cito dati, Mediobanca, 21 società multinazionali che fanno web e software, 1,8 miliardi di euro. Quanto hanno pagato in Italia? 3,3%, 60 milioni. Li sai tutti, sono tutti tracciati, devi soltanto applicare l'IVA che ha il cenitello a quelli. Quanti miliardi hanno risparmiato tra il 2013 e il 2017? 50 miliardi. Ok, tu falla l'evasione fiscale, ma prima mi fai la cortesia che applichi l'IVA a quelle aziende che sono Google, Amazon, eccetera, eccetera, che pagano in Italia, fanno tutti i profitti, non pagano l'IVA, si prendono i soldi e li portano in Irlanda, perché non hanno la forza di falla, si nascondono dietro la direttiva europea. No, ma adesso hanno messo la web tax di 400 milioni, ridicolo, è ridicolo, sentiamo la Lombardi. E quant'è la web tax? Mi dice quanto è dentro la manovra fiscale la web tax? Sopre più di quella che avete messo voi negli anni. No, amica mia, non ci stava né Amazon né tutti quegli altri, vivete in un'epoca in cui svegliatevi, perché non è il 1999 e il 2000, no, nel 2019, il 60-70% non c'entra nulla, dai, non c'entra nulla, Amazon nel 2011 doveva, dove era? Assicuro che funzionava benissimo. Apple dove era, non c'entra nulla, in Italia basta vedere l'incremento dei fatturati di Amazon e di Apple passato in maniera non esponenziale, ha aumentato il 12.000% da una notizia, quanto siete stati capaci lo scorso anno e quest'anno di intervenire? Zero, avete messo 400 milioni forse o 60 milioni, una cosa ridicola, quando sapete esattamente che i soldi, 8 miliardi l'anno, 8, potete prenderli subito da lì.